Dopo diverse settimane di decremento, il tasso di incidenza di casi di Covid-19 è tornato leggermente a salire e l'incidenza si fissa ora intorno a 510 casi per 100.000 abitanti. Anche l'RT mostra una tendenza all'aumento, siamo intorno a 0,83, anche se è sempre al di sotto dell'unità. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva, siamo rispettivamente al 12,9% e al 5,5%, quindi con una tendenza alla diminuzione. Anche se vediamo una diminuzione delle ospedalizzazioni, notiamo però un aumento nel numero dei casi. Quindi la circolazione virale resta piuttosto elevata e per questo motivo è bene affrontare questa fase mantenendo dei comportamenti che siano ispirati alla prudenza.